Il signor Commissario, lei non ha veduto il signor Buddington per caso? No, stamattina... Bene, allora ci vediamo l'English Bar, Leon. Alla prossima! Ah, Maggiore. Credo che sia tempo di salutarci, no? Sono onorato di aver fatto il viaggio con lei. Tra gentiluomini si dice così, vero? L'ha persa lei, forse?